L'Aquila sembra aver portato bene le zebbre, come è andato questo match secondo te, che aspettative avete per il futuro, visto che siamo alla penultima di campionato? Sapevamo che potevamo vincerla, il primo tempo non è andato molto bene, poi ci siamo ripresi, ci siamo un po' parrati a fine primo tempo e poi il secondo tempo ci ha dato ragione, anche con un po' di fortuna. Cosa vi aspettate per il futuro? Ora ultime due partite, speriamo che questa partita ci dia sia uno stimolo per le prossime. Cosa pensi del match in L'Aquila? Prima di tutto, possiamo dire che siamo molto consapevoli dell'occasione che è stato, in relazione con l'anniversario dell'Aquila. Nessi pensi sono con i persone di L'Aquila, e siamo stati molto felici e honore di venire e giocare, le zebbre sono stati molto felici e honore di venire e giocare. Il match in itself è stato molto emocionante, probabilmente, troppo emocionante. Abbiamo fatto troppo errori, ma in fine è una vittoria per l'Aquila. Cosa aspettate per il prossimo passo? Il prossimo passo per questo team è di prendere bene, 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 lo bene, non è bene. e presto a tutti i nostri spettatori